Sono finiti in manette due dei componenti della banda che da mesi terrorizza quartiere Nuova Firenze. Rapina in concorso e lesioni, l'accusa rivolta a Tosca Zaborra, 57 anni, residente a Sanazzario e il figlio Franco Sguario, 39enne di Marostica, responsabili nel 2013 assieme a Rossella Mazzaro, altra figlia della Zaborra, di una rapina ai danni di un pensionato residente in Angarano, pecchiato violentemente per farsi consegnare il denaro che teneva in casa. Per di tre, la condanna a tre anni e quattro mesi era arrivata ancora nel 2015, ma se per la Mazzaro le porte del carcere si erano spalancate già un anno fa, la madre e il fratello sono stati rintracciati dai carabinieri solo nella giornata di sabato. Tosca Zaborra, come testimoniano le immagini girate dagli stessi carabinieri, è stata fermata in un appartamento a San Giuseppe di Cassola, mentre Sguario è stato rintracciato a San Drigo dove cercava rifugio da un conoscente. Proprio Sguario, nelle scorse settimane, era tornato agli onori delle cronache per un violento episodio accaduto proprio in Nuova Firenze. Parliamo di un'aggressione a un ragazzo marocchino assolutamente per futili motivi, del resto ho avuto conto dei motivi di questa condanna, ossia una rapina in abitazione ad un anziano che è stato fra l'altro anche percorso con un bastone in capo per poche centinaia di euro e alcuni altri oggetti, ci fa capire anche quale sia la portata e la pericolosità sociale del soggetto. Qual è la situazione oggi allora in Nuova Firenze? A mio avviso, a nostro avviso, assolutamente più tranquilla e molto più sotto controllo. Qualcosa forse in quartiere Nuova Firenze è migliorato, ma ci sono volute le nostre denunce perché il Comune provasse ad attivare una task force mirata. Fino a qualche mese fa, quella che per i residenti e i commercianti della zona era una situazione da incubo in via Matteotti era considerata sotto controllo.